Buon pomeriggio a tutte, terzo incontro qui a Torino del percorso formativo protagonista nei governi locali che è il percorso promosso dal Consiglio regionale e dalla consulta delle lette del Piemonte. L'incontro di oggi ha per titolo la legge regionale 11-2012, disposizione organica in materia di enti locali, come gestire le forme associative tra enti locali. Il docente è il dottor Marco Orlando, responsabile dell'ufficio studi e ricerche della provincia di Torino, nonché dello start-up della gestione associata dell'Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese. Da 15 anni è consulente per l'innovazione e formatore per conto dell'Anci a livello nazionale e locale. Fa parte anche del comitato tecnico dell'osservatorio sulla riforma amministrativa della regione Piemonte, sempre come rappresentante Anci. Prego. Grazie e buonasera a tutte. Ringrazio la dottoressa per la presentazione e voi per la presenza. Come già stato detto, l'incontro di oggi ha come oggetto l'analisi e il commento di una delle principali riforme che interessano in questo momento e da un anno a questa parte tutto il sistema degli enti locali piemontesi. Insieme alla dottoressa prima pensavamo come organizzare queste due ore in modo che possano essere più utili e meno noiose per tutte voi e abbiamo pensato, se siete d'accordo, di dividere la presentazione in due parti. Al termine di ogni parte riservarci un momento per le domande, per i chiarimenti, per i vostri interventi che, devo dire, possono arricchire molto il dibattito su questo tema e ovviamente anche l'analisi della riforma. Perciò ci sarà una prima parte di 40 minuti circa, durante la quale vedremo i contenuti, i principi e obiettivi della legge 11 e faremo qualche considerazione anche sul contesto più istituzionale che politico, ma comunque sul contesto delle relazioni istituzionali fra lo Stato e il sistema delle autonomie locali. Dopo il primo dibattito al termine della prima ora affronteremo la seconda parte nella quale cercheremo di mettere in luce le diverse forme associative per la gestione delle funzioni comunali e quindi le convenzioni, le unioni di comuni, analizzeremo quello che la legge 11 prevede in termini di transizione dalle attuali comunità montane alle unioni montane di comuni e poi ci riserveremo in conclusione una considerazione di tipo critico o comunque problematico sulla scelta che il legislatore non piemontese ma nazionale ha fatto di considerare alternativi e non complementari come modelli organizzativi di gestione associata da un lato le convenzioni e dall'altro lato le unioni di comuni, siano esse di pianura, di collina o di montagna. Questo aspetto come vedremo nella gestione quotidiana delle forme associative e nella loro organizzazione comporta numerose difficoltà che in qualche modo di cui è opportuno che gli amministratori e le amministratrici siano consapevoli perché ahimè il tempo che il legislatore statale ci dà per completare la trasformazione del sistema degli enti locali è un tempo estremamente limitato e sta per altro per scadere. Quindi se siete d'accordo sull'organizzazione di queste due ore si può iniziare, iniziamo appunto individuando le principali finalità e contenuti della legge 11. Questa legge ha attuato in Piemonte una serie molto numerosa di normative statali. Mi scuso con le amministratrici che in qualche modo conoscono già bene questa riforma, mi scuso se ripeterò dei concetti noti, però è bene ricordare da dove nascono anche le riforme. Questa è davvero la più significativa riforma con la quale il sistema degli enti locali è costretta a fare i conti almeno dal fine degli anni 90, da quando vi ricorderete c'era stata la precedente riforma del decentramento che era andata sotto il nome del ministro all'epoca al governo e cioè il ministro Bassanini. Dal 97 ad oggi non si è registrata una riforma così impegnativa per il sistema delle autonomie locali. Dico impegnativa perché innanzitutto in Piemonte questa riforma interessa più di mille comuni sui 1.216 che compongono la nostra regione e quindi capite che quando un sistema è interessato per più dell'80% è interessato tutto il sistema. E sia perché la legislazione che la legge 11 ha attuato in Piemonte ha avuto negli ultimi tre anni almeno caratteristiche del tutto emergenziali. Stiamo parlando dei decreti legislativi a partire dal decreto legge 78 del 2010 che per primo ha fissato obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni fino all'ultimo che è il decreto 95 del 2012 noto per essere stata la spending review del governo Monti. La legge 11, la legge regionale 11, dà attuazione a quindi un complesso sistema di normative di carattere emergenziale che lo Stato ha prodotto negli ultimi tre anni. La novità introdotta da queste leggi, da questi decreti, legge non è soltanto evidentemente quella di costringere i comuni di minori dimensioni a gestire in maniera associata le funzioni. Le novità sono tante e le ricorderete il blocco del turnover nel comparto regioni antilocali, l'obbligo di riduzione della spesa di personale, l'obbligo tendenziale di riduzione del 20%, il mancato rinnovo della contrattazione collettiva relativa al salario accessorio e l'obbligo di riduzione tendenziale anche del salario accessorio. Tutto ciò con cui abbiamo fatto i conti in questi ultimi tre anni è frutto della stessa logica di riforma che è una logica sicuramente non di tipo premiale per il sistema delle autonomie. Eppure la riforma che la Regione ha messo in campo con la legge 11 cerca di recuperare dei principi positivi all'interno di un quadro non sicuramente positivo in termini tendenziali, non positivo in termini di finanza pubblica, non positivo in termini di norme statali. La Regione con questa riforma, con la legge 11, ha inteso salvaguardare alcuni principi costituzionali tra cui innanzitutto la semplificazione amministrativa e il contenimento della spesa pubblica, ma quello in qualche modo era già una via obbligata, ma anche e soprattutto la valorizzazione degli enti costituzionali come gestori delle funzioni pubbliche. Dopo qualche decennio in cui invece gli enti costituzionali, cioè i comuni, le province, le comunità montane, non erano state tanto considerate come soggetti gestori di funzioni amministrative. Vi ho detto prima, l'ultima volta che il sistema degli enti locali è stato interessato da un processo di decentramento che è stato 15 anni fa. In questi 15 anni abbiamo visto proliferare invece enti strumentali, agenzie, organismi non a rappresentatività democratica che hanno assorbito molte delle funzioni pubbliche che spettano agli enti costituzionalmente previsti. L'ultimo principio, ma non ultimo in termini di importanza, che la Regione Piemonte ha voluto salvaguardare con questa legge è il principio di autonomia. Devo dire che è una scelta che ha destato qualche perplessità e che è stata anche oggetto di dibattito, ma che io mi sento di difendere anche alla luce dell'esperienza applicativa di questo primo anno della legge 11. La valorizzazione del principio di autonomia ha consistito nel lasciare a ogni singolo comune del Piemonte la scelta su con chi associarsi per la gestione delle funzioni e lasciare la scelta di associarsi con comuni differenti anche per ogni singola funzione. È un processo che quindi non ha avuto un andamento di regista, tutt'altro, perché ha lasciato a ogni comune la possibilità di scegliere con chi fare che cosa per ciascuna delle funzioni fondamentali. Non è banale, questo ha complicato oggettivamente l'attuazione, ma mi pare che i comuni piemontesi, poi voi mi smentirete o confermerete quello che vi dico, stiano rispondendo in maniera prudente, stiano rispondendo attuando a distanza di un anno la riforma regionale. La valorizzazione del ruolo centrale dei comuni è un aspetto non secondario nella misura in cui comunque anche la legislazione nazionale sempre di più ha visto nei comuni il luogo centrale dell'amministrazione locale, molto più nei comuni che non nelle province da questo punto di vista. Quindi è comunque una scelta che lascia autonomia, che lascia libertà e che è in ogni caso in linea con le scelte del Governo nazionale. Gli obiettivi specifici di questa legge sono promuovere una regolamentazione nuova della gestione associata e accompagnare il processo di transizione delle attuali comunità montane in via di soppressione. In questo la nuova regolamentazione delle funzioni può comportare e sta comportando un effetto concreto molto importante, che provo a dirvi in questi termini. Da un lato resta a ogni singolo comune il compito di rappresentare dal punto di vista democratico la popolazione, dall'altro il tema di chi gestisce i servizi pubblici può essere scisso dalla responsabilità di ogni singolo comune e in taluni casi deve essere scisso dalla responsabilità di ogni singolo comune. E quindi fino ad oggi eravamo abituati a pensare che chi ha la rappresentatività democratica di una popolazione, di una comunità, è anche il soggetto responsabile della gestione dei servizi rivolti a quella comunità. Da questa riforma in poi, questi due concetti possono non coincidere. e il sindaco, ciascun sindaco, può restare titolare della rappresentanza democratica ma può non essere più titolare della gestione di alcun servizio. Il tema della gestione dei servizi si sposta su soglie demografiche più alte, su forme organizzative di gestione associata e quindi luoghi dove non è più il singolo che decide da solo ma sono più soggetti che decidono insieme. Vedremo poi con quali forme di gestione. Nello specifico ancora di più, i contenuti della legge sono individuare le soglie demografiche e la dimensione ottimale per ogni area geografica. Voi sapete che le aree geografiche sono tre, pianura, collina e montagna e la regione Piemonte ha abbassato le soglie previste dal decreto 95-2012 affermando nella propria legge che la soglia demografica minima per l'esercizio potenzialmente ottimale di ogni funzione è 5.000 abitanti in pianura e 3.000 abitanti in montagna. La collina in questo senso viene equiparata alla pianura. Ciò vale per tutte e nove le funzioni fondamentali tranne una, quella relativa ai servizi socioassistenziali in cui molto coerentemente la regione Piemonte ha determinato soglie demografiche più alte dei soli 5.000 o 3.000 abitanti. Nella legge è scritto che le funzioni in materia di socioassistenziale devono essere gestite da soggetti, consorsi nello specifico che facciano riferimento ad almeno 40.000 abitanti come popolazione di riferimento. Fatto comunque salvo il rispetto di eventuali soglie demografiche differenti previste nei piani sociosanitari. Quindi per la sola funzione sociale, come vedete, la soglia demografica è estremamente più alta. Questo perché i consorsi socioassistenziali in Piemonte almeno hanno funzionato tendenzialmente bene e pertanto sarebbe stato illogico disarticolare le economie di scala che oggi realizzano per ricomporle su dimensioni di scala molto molto più ridotte. Pensate alla differenza che c'è tra 40.000 e 5.000. al posto di un consorzio ce ne sarebbero stati fino a otto creando quindi delle diseconomie di scala su una funzione che è già molto in sofferenza dal punto di vista della disponibilità di risorse finanziarie e quindi non poteva sopportare ulteriori diseconomie di scala. Quindi la prima cosa che fa la legge regionale è individuare per ogni funzione o meglio per tutte le funzioni e poi per la funzione sociale qual è la soglia rispetto ai territori di pianura, di collina e di montagna. Poi determinare quali sono le forme di esercizio associato in modo coerente con la legge dello Stato che ha detto che le forme di gestione sono poi sostanzialmente due le unioni di comuni e le convenzioni con l'eccezione ammessa per la sola funzione socioassistenziale dei consorsi. Poi la regione ha disciplinato nella legge la procedura per le aggregazioni, i tempi e le modalità di controllo. Un intero capo della legge è poi dedicato al processo di transizione dalle comunità montane alle unioni montane di comuni con la previsione delle procedure di costituzione delle unioni di comuni e contestualmente di liquidazione delle comunità montane. Una parte significativa di questo capo è poi dedicata alla gestione delle risorse umane che sono dipendenti delle comunità montane e il cui destino non è scontato nella fase di transizione da comunità montana a unione di comuni. Naturalmente non l'ho detto ma se qualcosa non è chiaro della mia esposizione vi prego di alzare la mano e credo che possa essere molto più utile anche per me il confronto su questi temi. Allora le soglie ve le ho dette sono 3.000 abitanti e 5.000 e per la sola funzione sociale 40.000 abitanti. Le scadenze previste dalle legge 11 del 2012 sono note a chi si è ne è dovuto occupare tra di voi la gran parte delle scadenze sono già scadute perché la prima scadenza era il 28 dicembre 2012 era la data in cui ogni comune per quello che vi ho detto ogni comune soggetto agli obblighi di gestione associata avrebbe dovuto e ha dovuto presentare alla regione la propria proposta di aggregazione e cioè a dire la funzione 1, 2 e 3 la faccio dentro l'unione dei comuni la funzione 4 la faccio in convenzione con gli altri comuni eccetera eccetera. il primo gennaio 2013 è scattato l'obbligo di dimostrare allo Stato tramite le prefetture l'adempimento della prima scadenza prevista dalla legge statale cioè la gestione obbligatoria in forma associata di almeno 3 delle 9 funzioni fondamentali dei comuni l'ultima scadenza è quella che ancora deve scadere ma è la più impegnativa è quella che sta impegnando i comuni in questi mesi in un grosso sforzo di riorganizzazione perché consiste nel gestire le altre 6 funzioni fondamentali in forma associata dentro una unione di comuni oppure attraverso una o più convenzioni questo termine è ormai prossimo alla scadenza inutile dire che da più parti si chiedono delle proroghe perché non tutti i comuni sono pronti però ci sono delle esperienze molto interessanti in atto anche all'interno della provincia di Torino ne cito 3 che sono le 3 unioni che sono più avanti dal punto di vista della progettazione del modo attraverso il quale potranno recepire tra 40 giorni 6 altre funzioni fondamentali da parte dei comuni l'esperienza più avanti di tutte è quella dell'unione nord-est Torino che è un'unione di comuni da 120.000 abitanti quindi capite che cominciamo già a ragionare su dimensioni di scala estremamente significative è composta da 6 comuni tra cui Settimo Torinese ha già in gestione associata 3 funzioni quella più intensa e quella della polizia locale e si sta attrezzando molto rapidamente per completare la gestione in forma associata anche delle altre la seconda è quella alla quale partecipo anch'io e cioè l'unione dei comuni del Ciriacese e del Basso Canavese che di comuni ne ha 6 fanno riferimento a Ciriè e San Maurizio Canavese e di abitanti ne ha 50.000 la terza è l'unione che si è creata per gestire la sola funzione socioassistenziale tra Giaveno e altri comuni che insieme fanno più di 40.000 abitanti e anche questa unione sta lavorando molto in fretta e molto bene per assorbire tra poco tempo le altre funzioni fondamentali dei comuni nel resto del Piemonte la situazione è più variegata perché ci sono province come quella di Asti che erano già interamente federate in unioni di comuni alcune delle quali hanno perso il loro significato durante gli anni soprattutto perché le vecchie unioni erano fatte per aggiungere risorse quindi per uno scopo molto diverso da quello attuale lo scopo attuale è quello di gestire con le stesse risorse le funzioni e le attività che i comuni da soli non riescono più a gestire le vecchie unioni servivano per avere fondamentalmente contributi aggiuntivi da parte della regione Piemonte quindi nella provincia di Asti il fenomeno di quelle unioni era molto molto invalso però alcune si sono chiuse altre si stanno ricostituendo ex novo la provincia di Asti ha la caratteristica di avere i comuni più il livello di frammentazione più alto fra tutte le otto province piemontesi ci sono comuni da 120 140 abitanti che hanno tendenzialmente un dipendente magari nemmeno a 36 ore alla settimana e quindi capite che per quelle realtà lì organizzare una gestione associata diventa difficile diventa per fin difficile fra quei comuni raggiungere la soglia dei 5.000 abitanti poi ci sono altre province altri territori che hanno scelto la strada delle convenzioni e lo vedremo poi nell'analisi tecnica della seconda parte le convenzioni sono uno strumento apparentemente più facile da usare ma in realtà con più problemi di applicazione però in ogni caso il territorio sta rispondendo sta rispondendo alla sollecitazione dello Stato sta anche rispondendo alla sollecitazione della Regione che proviene dalla legge 11 ed è ragionevolmente pronto nonostante timori incertezze e resistenze ad affrontare questa scommessa la legge prevede che in caso di inadempimento alla scadenza dei termini venga assegnato un termine per adempiere che viene assegnato dal prefetto e qualora scada anche questo secondo termine opera l'esercizio sostitutivo quindi il comune viene commissariato per poter adempiere agli obblighi di gestione associata quindi arriva un commissario che decide con chi si fa la gestione associata su quali funzioni poi terminato il commissariamento a quello scopo il comune riprende la sua titolarità di indirizzo politico la legge 11 ha previsto anche delle misure non strettamente richieste dalla normativa statale in questo ha fatto un po' la differenza anche rispetto ad altre regioni italiane perché ad esempio ha previsto la possibilità che i comuni già che conferiscono obbligatoriamente nove funzioni fondamentali possano conferire in gestione associata anche le altre abbiano la facoltà di farlo quindi ha previsto una norma specifica che è l'articolo 3,3 che dà questa possibilità che è una possibilità non banale se considerate il fatto che nei piccoli comuni proprio per la scarsità di personale le attività non sono settorializzate specializzate come possono essere nella regione Piemonte o nella provincia di Torino c'è il dipendente che si occupa di un po' di tutto all'interno di un'area facciamo l'esempio dell'area tecnica c'è il dipendente che si occupa della progettazione quando si fa ma della manutenzione degli edifici dell'illuminazione pubblica e della manutenzione delle strade ma magari si occupa anche dell'edilizia residenziale privata allora tra le funzioni che vi ho citato tutte tranne l'ultima sono comprese tra le funzioni fondamentali e quindi vanno in gestione associata l'edilizia residenziale privata no non è prevista dal legislatore come funzione che debba essere messa in gestione associata obbligatoria e allora cosa si fa si spezza quel dipendente sei parti vanno all'unione e due parti restano al comune no si dà la possibilità al comune di dire già che devo cedere sei parti del mio dipendente all'unione gli cedo anche le altre due e ovviamente il comune si priva anche della possibilità di gestire da solo l'edilizia residenziale privata però tant'è è una misura come dire che aiuta e che non toglie sicuramente nessuna libertà ai comuni poi un'altra clausola che non era di per sé richiesta dalla legge statale è di organizzare delle unioni o delle convenzioni anche con comuni non soggetti agli obblighi voi sapete che il territorio piemontese in particolare la provincia di Torino ma vorrei dire ad esempio anche le province di Biella Verbania sono province anche la provincia di Cuneo sono province policentriche non c'è un unico luogo di aggregazione urbana significativa nella provincia di Torino questo è evidente ci sono tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti e sono 21 se non ricordo male e questi sono dei mini centri significativi da Ivrea Pinerolo Settimo Torinese Carmagnola Cirie Chieri nella provincia di Cuneo ci sono sicuramente almeno tre centri uno è Cuneo l'altro è Alba e il terzo è Bra e così via nella provincia di tra le province di Vercelli Alessandri e Asti c'è un oggetto che è Casale Monferrato che di per sé potrebbe essere un centro aggregatore delle tre province come è stato storicamente per 1200 anni ma comunque è un polo significativo allora qual è l'utilità di permettere la gestione associata anche con comuni che sono sopra i 5000 abitanti l'utilità è che questi medi e grandi centri offrono ai piccoli comuni il loro know-how la loro specializzazione operano quello che si definisce il trasferimento tecnologico perché è evidente che un comune come Cirie perché lo conosco che ha una rete in fibra ottica sottoterra può mettere a disposizione questa infrastruttura anche degli altri comuni che aderiscono all'Unione e il comune di Robassomero sicuramente non ha la possibilità da solo di finanziarsi una rete in fibra ottica questo è il trasferimento tecnologico il trasferimento di know-how che serve anche al comune grande perché un comune da 20.000 abitanti sicuramente è al riparo più di un comune da 3.000 abitanti dalle misure di finanza pubblica dal taglio dei trasferimenti è più al riparo ma non è completamente al riparo e di conseguenza se stringe un'alleanza con i comuni che stanno attorno al suo polo da 20.000 abitanti può diventare una espressione di un territorio da 50.000 e di conseguenza essere più forte essere anche più forte nella competizione inevitabile sulle risorse è una competizione che è sempre più feroce in cui ovviamente come sempre chi è più forte ottiene di più questa è la ragione per cui bene ha fatto la legge 11 a prevedere anche questa facoltà di creare delle aggregazioni attorno ai comuni più grandi e a mio avviso sbaglia chi oggi pensa di essere tanto io ho 40.000 abitanti faccio da solo nessuno mi verrà mai a disturbare è un errore perché se a settimo si crea un supercomune da 120.000 abitanti a Ciriessi si crea un supercomune da 50.000 a Giaveno si crea un supercomune da 50.000 il comune singolo che ne ha 40.000 domani sarà un piccolo comune nei confronti di queste aggregazioni quindi dovrebbe esserci lungimiranza anche negli amministratori dei grandi comuni nel prendere atto che la linea di tendenza è questa ed è questa da almeno 3-5 anni e non pare che ci siano avvisaglie del fatto che il governo quale che sia quale che sia il colore del governo torni indietro perché negli ultimi 3-5 anni i governi di ogni colore hanno perseguito questa strada che è la strada dell'aggregazione fra i comuni e con ciò vi ho anche detto gran parte di questa breve riflessione sul contesto delle relazioni istituzionali che giustifica questa riforma questa riforma come vi ho accennato nasce come dire con un processo molto lungo iniziato 15 anni fa e si conclude oggi dopo 3 anni di evidenti segnali di ritorno a un neocentralismo determinato dalla crisi economica e dalla legislazione emergenziale che ne è scaturita almeno dal 2006 ad oggi sono invertiti i saldi di finanza pubblica si è tornati a tentare di risparmiare anziché spendere e progressivamente sono stati applicati tagli e riduzioni sempre più significativi e drammatici al sistema delle autonomie locali c'è stata questa meteora del 2009 rappresentata dal federalismo fiscale che abbiamo visto tutti con molto favore con molte speranze ma che in realtà non ha prodotto ciò che ci si aspettava sia perché il governo stesso il Parlamento stesso quando hanno approvato la legge 42 del 2009 l'hanno dichiarata transitoria e quando uno dichiara una cosa transitoria probabilmente non ci crede neanche molto e sia perché l'attuazione è stata lunga ed è stata soprattutto interrotta cioè i fabbisogni standard dai quali doveva nascere una nuova capacità di gettito e una nuova autonomia tributaria per gli enti locali sono stati esaminati per tre funzioni su sei e il processo poi si è interrotto nel 2012 mettendo un grosso punto interrogativo prego io direi che si sposa quanto bene non è dato sapere non solo a me ma credo a nessuno in questo momento mi riservo però se posso la possibilità di tornare sul tema nella seconda parte quando parleremo delle unioni di comuni delle convenzioni e delle comunità montane lì in mezzo c'è anche il tema dell'area metropolitana e della città metropolitana quindi se posso mi permetto di non dare la risposta subito ma di rimandare all'ora successiva vi dicevo in questo quinquennio di tendenziali di finanza invertiti c'è stata questa piccola illusione del federalismo fiscale che non è andata esattamente come speravamo e poi dal 2010 in avanti è stato tutto neocentralismo innalzare soglie riportare funzioni dalle autonomie locali allo Stato creazione di nuove agenzie che oggi gestiscono funzioni che prima venivano gestite a livello decentrato eccetera non sto a insistere perché sapete benissimo che cosa è stata tutta la giurisprudenza sugli affidamenti in house che fino al 2006 si potevano fare e poi dal 2006 non si sono più potuti fare quindi tutte le fondazioni di partecipazione pensate del settore dei beni culturali che erano nate in Italia per gestire in house attività sui beni culturali dei propri committenti che erano amministrazioni pubbliche si sono create e poi non hanno potuto operare perché è cambiata la giurisprudenza è cambiata la normazione è cambiato l'atteggiamento e la fiducia del governo del Parlamento nazionale sul sistema degli enti locali nel loro complesso quindi gli esempi potrebbero essere veramente innumerevoli e poi si è arrivati come vi ho detto al 2012 alla spending review che costituisce la chiusura di questo processo neocentralista sono state determinate le soglie obbligatorie di gestione associata delle funzioni e dei servizi pubblici e poi c'era anche giusto per accennare al tema la parte relativa al destino delle province e delle città metropolitane sapete bene che tutta questa parte è stata impugnata da molte regioni tra cui la regione Piemonte dinanzi alla Corte Costituzionale dopo un anno che si è attesa la sentenza la sentenza è arrivata a luglio di quest'anno ha dato ragione alle regioni ricorrenti e ha dichiarato incostituzionale tutta la parte relativa alle città metropolitane e alle province che oggi si trova senza disciplina esiste un nuovo disegno di legge ordinario e un nuovo disegno di legge costituzionale che il governo Letta non più Monti ha presentato il giorno dopo la sentenza della Corte ma letteralmente il giorno dopo si è riunito il Consiglio dei Ministri allo scopo di deliberare questi due progetti di legge ordinario e costituzionale ma per adesso stiamo parlando di norme de jure condendo e non di norme entrate in vigore poi parleremo nel merito della questione metropolitana non solo dal punto di vista giuridico allo Stato quindi dei fatti la disciplina riguardante i comuni che era prevista nella spending review è ancora in vigore la disciplina riguardante le province le città metropolitane è stata cassata dalla Corte vi ho parlato di funzioni fondamentali ma con questo chiudiamo la prima parte del nostro incontro e lascerei spazio ai vostri interventi di cosa stiamo parlando questo quello che vedete è l'elenco delle funzioni fondamentali che vanno messe in gestione associata obbligatoria per i comuni sotto i 5.000 abitanti in pianura e per i comuni sotto i 3.000 abitanti in collina e montagna le funzioni le leggo velocemente sono organizzazione generale dell'amministrazione gestione finanziaria contabile controllo organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale i vi compresi servizi di trasporto catasto pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale attività di protezione civile in ambito comunale organizzazione e gestione dei servizi di raccolta eccetera dei rifiuti e i relativi tributi progettazione del sistema locale dei servizi sociali edilizia scolastica polizia municipale queste sono le funzioni che obbligatoriamente devono essere gestite in forma associata la domanda che viene immediatamente dopo è dentro queste diciture che cosa c'è effettivamente di quello che oggi i comuni svolgono da soli e che cosa resta fuori da questi obblighi ce ne stiamo occupando in tanti in diversi contesti di fare l'interpretazione di queste nove funzioni per poter dire ai comuni guarda che quella tua specifica attività prendo ad esempio la refezione scolastica è dentro e fuori dalle funzioni fondamentali sono questi problemi applicativi che poi sono la concretezza di questa riforma non c'è ancora un'interpretazione univoca perché è stato aperto un tavolo di lavoro tra il ministero dell'interno e l'Anci questo tavolo di lavoro come tutti i tavoli che si aprono a Roma scusate la caduta di stile si apre e poi non viene più convocato e quindi non abbiamo un criterio tassonomico non abbiamo un criterio ermeneutico che ci supporti nel tradurre in concreto queste funzioni è un lavoro che ogni territorio sta facendo con molta fatica perché davvero quando poi passi da questo elenco al bilancio comunale l'interpretazione non è sempre univoca comunque in appendice a queste slide ho pensato che vi potesse essere utile avere una griglia interpretativa e quindi per ciascuna di queste funzioni troverete per chi avrà voglia di approfondire a quali servizi e a quali funzioni del bilancio comunale è associata ognuna delle funzioni fondamentali in linea di massima quello che resta fuori dagli obblighi di gestione associata sono l'edilizia residenziale privata come vi ho detto il commercio su area pubblica mentre il commercio su area privata è dentro le funzioni fondamentali l'attività l'attività di supporto istituzionale e contabile che serve a continuare a far esistere un comune in quanto tale perché non è che i comuni si chiudono continuano ad avere un sindaco una giunta e un consiglio e quindi deve esserci una quota di personale che continua a organizzare le sedute della giunta del consiglio il protocollo eccetera idem continuano ad avere un bilancio anche se molto dimagrito rispetto a quello che era fino ad oggi e quindi c'è bisogno di qualcuno che continui a gestire un bilancio allora al netto di queste cose tutto il resto dell'attività comunale quindi tutte le 15 funzioni come sono classificate nel bilancio di ogni comune dovrebbe essere messo in gestione associata o nella forma dell'unione o nella forma della convenzione con le caratteristiche che vedremo poi cosa c'è dentro ve l'ho detto beh qui avete un piccolo esempio non so se si vede un piccolo esempio di che cosa significa passare dalla funzione come viene descritta dalla legge al servizio nello specifico la funzione è la prima organi istituzionali quella che dice organizzazione generale ha dentro il servizio di supporto agli organi istituzionali che significa in concreto la segreteria del sindaco della giunta del consiglio la formazione degli atti degli organi collegiali i decreti sindacali la raccolta degli atti l'aggiornamento dei registri eccetera sono tutte attività materiali molto rutinarie quello che passa all'unione è quello che vedete nella terza colonna passa all'unione o passa alla convenzione comunque passa alla gestione associata è quello che vedete nella terza colonna e vedete che il rapporto tra quello che passa e quello che resta al comune in forma singola è decisamente sempre sbilanciato verso la gestione associata questo per darvi semplicemente l'idea di che cosa significa in concreto dire che i comuni sono tenuti a gestire insieme nove funzioni fondamentali l'ultimo messaggio di questa prima parte è quello che riguarda le risorse umane in processi riorganizzativi di questo tipo ogni tanto si dimentica che le organizzazioni non sono cose asettiche non sono dei flowchart non sono degli organigrammi non sono cose fredde e neutrali sono persone sebbene esistano trent'anni di letteratura sociologica sulle relazioni umane a partire da maio in poi ci si dimentica spesso che le organizzazioni sono fatte da persone e soprattutto le nostre organizzazioni sono fatte da persone perché noi non abbiamo delle aziende in cui la componente tecnologica o di macchinari prevale sulla componente di mano d'opera è vero il contrario prevale la mano d'opera sia sul capitale e sia sulla tecnologia pertanto quando si mette mano a questo tipo di riorganizzazioni bisogna considerare le persone e gli effetti che queste riforme hanno sulla vita dei dipendenti e dei colleghi è un primo consiglio per chi di voi dovesse approcciare ora speriamo nessuno insomma perché siamo un po' verso la scadenza ma per chi fosse impegnato in questa opera di riorganizzazione considerate questo aspetto e considerate anche il fatto che gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione l'ordinamento gius lavoristico mette a disposizione non sono illimitati anzi sono pochi e sono la mobilità volontaria la mobilità non volontaria con mobilità intendo da un ente a un altro ente non mobilità fuori dal lavoro sono il distacco il comando l'assegnazione temporanea cioè quelle forme ibride che non diciamo hanno un impatto un pochettino più soft sulla vita lavorativa dei dipendenti e tenete presente che le attività di relazione sindacale da questo punto di vista sono prescritte non possono essere certamente eluse quindi nel momento in cui vi trovate a dover dire oddio devo mettere l'ufficio tecnico insieme ad altri quattro comuni la prima cosa a cui dovete pensare non l'ultima sono i dipendenti e il vostro gruppo dirigente diciamo così il segretario comunale il responsabile finanziario chiunque abbia responsabilità apicali nella vostra organizzazione deve lavorare insieme a voi amministratori nella gestione di questa riforma purtroppo non sempre è così devo dire che nell'esperienza che ho accumulato in questi anni in particolare quest'anno ho visto sempre molta più propensione al cambiamento da parte degli amministratori e molta meno da parte dei miei colleghi o di altre categorie di dipendenti pubblici ma è importante in una fase cruciale come questa che tutto il gruppo dirigente abbia consapevolezza degli obiettivi e marci compatto verso il raggiungimento degli obiettivi perché altrimenti è una macchina talmente complicata quando si muove che basta che una sola delle ruote non giri insieme alle altre e sicuramente la macchina non va da nessuna parte prima della seconda parte come promesso se avete commenti osservazioni o richieste volentieri buongiorno a tutti io sono Marina Cima sono una ex dirigente di una multinazionale con 41 anni di esperienza allora volevo chiedere in questo processo di superare appunto la naturale resistenza del cambiamento in queste organizzazioni e si rende necessario l'inserimento di manager specifici per gestire questi processi oppure è svolto tutto all'interno dei dipendenti delle singole organizzazioni grazie grazie a lei risponderei subito per non accumulare poi i ritardi e rischiare di dimenticarmi anzi se posso chiedere una penna per segnarmi le domande perché la mia non funziona grazie allora sarebbe importante poter inserire delle figure manageriali che aiutino questi processi di transizione non è così facile perché questo processo di transizione per legge deve avvenire in varianza di costi e un manager tendenzialmente non è gratis però io vedo le dico quello che vedo vedo che nella maggior parte dei casi questo processo è affidato ai segretari comunali grazie è affidato ai segretari comunali i quali alcuni hanno una splendida consapevolezza della complessità del processo e stanno facendo cose egregie devo dire altri e non voglio offendere la categoria ma mi sembrano la maggioranza ha invece un approccio meramente burocratico al tema e dentro un approccio burocratico viene sempre scelto il metodo più semplice che sono le convenzioni ma vengono fatte delle convenzioni puramente formali questo è bene che ma la regione Piemonte lo sa già la direzione antilocale è già consapevole che molti comuni stanno prendendo questa riforma in maniera assolutamente burocratica cioè dire facciamo una convenzione sulla carta la mettiamo nel cassetto nessuno ci verrà mai a controllare e in questo modo come dire superiamo l'ostacolo a mio parere è una visione miope per fortuna che invece ci sono altri comuni che grazie soprattutto ai loro segretari stanno marciando verso una corretta interpretazione della riforma poi mi permetto di dire ancora che insieme ad un po' di managerialità che sicuramente non guasta ma che richiede percorsi professionali che non sono tanto diffusi in ambiente pubblico servirebbe molto una diciamo un supporto più di tipo da psicologo del lavoro culturale un accompagnamento culturale ecco credo che incontri come questo come quelli che un po' neanche troppo si stanno facendo da un anno questa parte sul territorio possano aiutare perché accompagnano la crescita culturale poi alcuni escono da incontri di questo tipo dicendo Massima tanto è la solita cosa l'italiana tanto il 28 dicembre arriva la proroga tanto di qua e tanto di là è ben probabile che sia così perché l'Italia poi è fondamentalmente anche il decreto mille proroghe del 28 dicembre però non potrà essere sempre così anche perché una cosa che non ho detto è che dentro questi tre anni di riforme un po' forzate c'è stata la lettera all'Italia della Banca Centrale Europea 5 agosto del 2011 in cui l'Europa ha detto all'Italia se vuoi restare con noi devi fare determinate cose non mi risulta che l'Europa abbia cambiato idea sebbene siamo usciti dalla procedura di infrazione il commissario alla spending review di quest'anno appena nominato la scorsa settimana guarda caso è l'ex direttore bilancio del Fondo Monetario Internazionale quindi che cosa ci aspettiamo che l'Europa ci dica cose diverse no e allora la nostra reazione dovrà essere sempre questa pertanto chi dice chi pensa ma no ma tanto non succede niente non succede niente poi magari un giorno si trova spiazzato allora l'accompagnamento il supporto manageriale psicologico culturale sicuramente sarebbe utile importante domanda impegnativa la legge statale no la legge regionale prevede delle premialità per i comuni grandi che decidono di aggregare attorno a sé i comuni più piccoli non prevede delle compensazioni per i territori più deboli non è escluso che poi i sistemi di perequazione esistono sa meglio di me quello che fino all'anno scorso si chiamava fondo sperimentale di riequilibrio che è uno dei due assi del federalismo fiscale un conto dell'autonomia impositiva IMU eccetera l'altro è il fondo sperimentale di riequilibrio che oggi si chiama fondo regionale di solidarietà ma che ha quello scopo cioè la perequazione del gettito fiscale a favore dei territori che hanno minor capacità fiscale quindi esistono le compensazioni non sono dentro questi assi di riforma perché questi assi di riforma hanno fondamentalmente la funzione di spingere ad aggregare e lei capisce che se la stessa legge dicesse devi aggregarti ma chi non si aggrega do comunque una compensazione non sarebbe un messaggio così efficace no? i comuni già sono naturalmente resistenti al cambiamento questo aiuterebbe la resistenza non certo la riforma quindi da queste normative non è previsto alcun tipo di compensazione sono un assessore del comune di Peceto Torinese un po' di domande perché il nostro comunello è proprio il comunello che ha un sacco di problemi sulle funzioni associate perché noi siamo circondati da comuni tutti molto grossi ai quali noi abbiamo chiesto abbiamo provato con quelli più vicini a noi a svolgere delle funzioni a chiedere il fatto di avviare delle convenzioni per svolgere le funzioni associate e quello che è successo è che regolarmente ci viene caricato un costo che è il costo del loro svolgimento dell'attività in comune e quindi questo ovviamente ci pone in una situazione di grande debolezza ovvero quello che è stato presentato come uno strumento di valorizzazione delle autonomie perché è un processo bottom up in realtà per noi diventa una cosa per cui ci presentiamo con il cappello in mano pronti a pagare un conto normalmente piuttosto salato l'alternativa ovviamente è quella di fare invece delle unioni con dei comuni che sono nella seconda cintura e quindi saltare la prima cintura che comunque è fatta di comuni grossi quindi attraversare dei territori che non si uniscono con noi nello svolgere le funzioni associate ad andare a prendere altri comunelli della collina è chiaro che questo realizzarlo a costo zero diventa veramente molto difficile cioè diventa molto difficile fare un'attività che sia un'attività dove effettivamente che non sia solo sul carta fondamentalmente l'altra cosa che è un'altra criticità che noi abbiamo evidenziato è il fatto che è vero che noi dovremmo coinvolgere il personale ma tante volte nei piccoli comuni i funzionari vengono incaricati di responsabilità di servizio perché così non gli si paga gli straordinari fondamentalmente e a quel punto lì noi ci troviamo in una situazione in cui su due comunelli piccoli dobbiamo decidere a chi tagliare la testa e quindi è evidente che le strutture difficilmente ci vengono dietro allora le domande erano sostanzialmente queste perché noi ci siamo un po' cimentati ma è veramente una materia piuttosto difficile allora una prima domanda se sono previste delle forme di esenzione o di deroga rispetto a situazioni tipo la nostra la seconda cosa la seconda domanda è ovviamente che tipo di sovvenzione esiste per i comuni grossi che si associano non quelli che si fanno capofila del mettere insieme i comuni vicini ma per esempio se il comune di Pino o il comune di Cambiano volesse lavorare con noi se ha delle forme di vantaggio economico mettiamola così direi essenzialmente queste due cose grazie grazie a lei conosco bene il caso di Pecetto perché ne ho parlato diverse volte con il sindaco Pizzo e con la vostra segretaria comunale che è tra quelle dico poche persone che ha una visione molto lucida del problema e opera nel senso della riforma e non contro la riforma quello che io ho detto e che quindi ribadisco è che la vostra situazione di comune enclave è la classica situazione da deroga regionale legge regionale prevede delle deroghe per diverse fatti specie nella deliberazione della giunta regionale che ha interpretato e cominciato ad attuare i criteri per i quali la regione darà la deroga c'è anche il caso specifico del comune enclave cioè del comune sotto i 3.000 nel vostro caso circondato da comuni tutti sopra che quindi è l'unico a dover gestire in forma associata e gli altri attorno no quindi il vostro è un caso tipico da deroga mi risulta che però abbiate già inviato stiate inviando una richiesta di interpretazione del vostro caso sia alla regione sia al ministero quindi avete già fatto tutto quello che era necessario fare per mettervi nelle condizioni di ottenere la deroga penso mi risulta abbiamo già fatto tutto già anche alla fine dell'anno scorso il problema è che è stato un urlo nel deserto cioè non abbiamo ricevuto molte risposte sull'argomento e questo ci ha messo abbastanza in imbarazzo devo dire perché non sappiamo bene come muoverci adesso rifaremo una nuova richiesta ovviamente a soggetti cambiati perché è cambiato il prefetto quindi siamo già andati a parlare con il prefetto certo appunto noi abbiamo oggettivamente delle difficoltà sull'argomento sicuro la seconda ipotesi la seconda strada è quella che lei già citava di provare a fare convenzioni o unioni con comuni non legati da contiguità territoriale con il vostro è una scelta difficile poi da sostenere ma non sareste sicuramente l'unico caso in Piemonte da questo punto di vista alcune funzioni possono anche non richiedere la contiguità territoriale altre purtroppo la richiedono nel senso che quando parliamo di trasporto pubblico locale parliamo di una funzione che richiede la contiguità territoriale quindi lì non c'è scampo o ottenete la deroga o ottenete la deroga c'è altra strada l'altra domanda che lei faceva e quali sono le forme di incentivazione che sono previste dalla legge regionale la legge regionale prevede che vengano incentivate l'incentivazione in concreto viene stabilita anno per anno con un bando i primi due bandi che sono usciti dopo l'entrata in vigore della legge 11 non hanno previsto in concreto delle forme specifiche di incentivazione differenziata fra unioni o convenzioni costituite solo tra piccoli comuni e unioni o convenzioni costituite anche con i grandi comuni quindi per adesso in concreto nei primi due bandi la regione non ha incentivato in maniera differenziata so che gli amministratori dei comuni che si sono fatti carico di aggregare attorno a sé comuni più piccoli stanno chiedendo dal punto di vista politico che vengano applicate che venga applicato l'articolo 9 comma 4 della legge che prevede appunto forme speciali di incentivazione la ringrazio per questa riflessione se dovessimo fare una conurbazione americana dovremmo mettere insieme Genova, Torino e Milano e tutti i comuni che ci stanno in mezzo quindi non è quello lo scopo però lei ha ragione uno dei più grossi problemi di questo mix di questo remix delle amministrazioni e quando ci sono differenze di scala così grandi lo sto vedendo anche nel Ciriacese anche nelle altre realtà che seguo quando c'è un comune da 20.000 abitanti e un comune da 3.000 però vede è un fatto non politico è un fatto organizzativo perché non c'è un solo modello di organizzazione lo vedremo poi tra qualche minuto un modello è quello che dice io prendo tutti quelli che si occupano della stessa cosa a San Benigno Volpiano Lenini Settimo li porto in un palazzo li chiudo dentro cambio l'etichetta ci scrivo sopra unione dei comuni e poi facciano cosa vogliono e quello è un modo per fare organizzazione no? tendenzialmente quel modo fa perdere lo sportello aperto a caselle che mi risulta sia un problema fa perdere l'elasticità che c'era prima a San Benigno comporta degli svantaggi quel modo di organizzare lì c'è un altro modo che io non voglio suggerire il mestiere a nessuno ci mancherebbe altro però l'altro modo è dire io non porto nessuno da dove sta in un altro luogo e così faccio chiudere gli sportelli eccetera io porto il lavoro dove sta la persona quindi magari investo sul sistema informatico permetto a quella persona di essere più come dire flessibile tendenzialmente salvaguarda il decentramento quindi se ho uno sportello aperto devo stappare le bottiglie di champagne perché uno sportello aperto di questi tempi non ce l'hanno mica tutti i comuni allora anziché chiuderlo magari chiedo al dipendente di tornare su vari sportelli in modo da riuscire a tenerli aperti magari in questo modo non riesco a garantire il terzo turno notturno però appunto lei faceva l'esempio delle conurbazioni americane non so se anche dalle nostre parti abbiamo le gang che di notte vanno non so se è più importante lo sportello aperto di giorno il terzo turno di notte non lo so ognuno ha la sua risposta eh le gang non lo so ognuno ha la sua risposta ma è un fatto organizzativo non è un fatto politico non è una cosa che spetta a decidere agli amministratori spetta a decidere a chi ha in carico l'organizzazione dell'ente unione dei comuni e ognuno ha le sue ragioni da questo punto di vista possiamo passare alla seconda parte allora sì in realtà appunto l'abbiamo già introdotta confrontiamo sostanzialmente questi tre modelli organizzativi il primo dei quali più usato per quello che vi ho detto è il modello delle convenzioni le convenzioni devono essere stipulate secondo la legge regionale fra comuni appartenenti alla stessa area territoriale omogenea non è necessario che però siano comuni con termini dal punto di vista geografico devono rispettare le soglie ovviamente minime demografiche quindi devono essere convenzioni all'esito delle quali ho una collettività di almeno 5.000 abitanti in pianura e 3.000 in colline montagne i comuni che già appartengono a un'unione possono decidere che alcune funzioni non le gestiscono più all'interno dell'unione ma le gestiscono attraverso una convenzione con altri comuni fuori dall'unione potrebbe essere un'idea per San Benigno se San Benigno non è contenta della gestione unionale della polizia locale può recuperare autonomia di scelta decidendo di stare dentro l'unione per altre funzioni ma magari di convenzionarsi con altri comuni attorno a sé per l'esercizio forse più equilibrato dal punto di vista demografico della funzione di polizia locale ripeto non fatemi telefonare dal dottor Maggio però perché sono idee sono idee sono idee poi davvero io come vi ho detto all'inizio ho profondo rispetto e ammirazione per l'esperienza che nel complesso l'Unione Net sta facendo perché ha dato importanza notevole ad una parte di territorio che oggettivamente fino ad oggi non era particolarmente valorizzata quindi il peso proporzionale della vostra area è aumentato incredibilmente ve lo assicuro ve lo dico dal punto di vista dell'Anci della provincia cioè si è messo un occhio di attenzione su un'area che oggettivamente era importante tanto quanto le altre oggi lo è un pochettino di più quindi massima ammirazione per quello che è stato fatto gli errori organizzativi li facciamo tutti come si fanno si rimediano se uno vuole e può uno strumento potrebbe essere questo le convenzioni hanno il vantaggio di essere molto facili da fare ma hanno lo svantaggio di essere molto deboli sono contratti i contratti come sapete si stipulano poi si rescindono non si onorano e quando non si onorano i contratti si va a fare il decreto ingiuntivo si va a chiedere al giudice di pace il decreto ingiuntivo ecco pensate che cosa significa gestire attraverso una convenzione una cosa come la viabilità o l'illuminazione pubblica stiamo parlando di cifre economiche significative magari non per cattiveria di nessuno ma può esserci l'ipotesi che un comune a causa del patto di stabilità non possa pagare la propria quota alla gestione convenzionale e il capo convenzione cosa fa spegne le luci allora gestire con una convenzione cose oggetti che hanno una grossa rilevanza economica è un pericolo è un problema che si sta già verificando per chi ha scelto quella forma di gestione le convenzioni in ogni caso devono avere un contenuto obbligatorio molto molto rigido essendo dei contratti non hanno alcuna elasticità io un contratto lo devo applicare così come il codice civile mi dice che devo applicare il contratto con i suoi criteri ermeneutici e se non vado d'accordo su una clausola finisco di nuovo davanti alla commissione di conciliazione o al giudice di pace e questo non può succedere non ha senso che succeda in ambito pubblico eppure succede sempre più spesso pertanto la mia personale opinione sulle convenzioni è che servano sì per chi deve fare in fretta e non ha tempo di pianificare altre forme servano quando oggettivamente ecco il caso San Benigno ci sono delle difficoltà a mixare meglio perché ci sono differenze di scala troppo distanti ma non è sicuramente lo strumento più flessibile non è lo strumento più garantista anche per i dipendenti coinvolti perché poi i dipendenti distaccati ad una convenzione cambiano il loro capo cambiano il loro responsabile cioè è una forma veramente molto rigida di gestione di questi obblighi e comporta quegli effetti negativi specifici che vedete scritti lì cioè il capofila si carica tutto il patto di stabilità degli altri perché poi è lui che incassa e spende e anche ai fini della determinazione dei costi standard e quindi dell'accesso al fondo di solidarietà regionale ex fondo sperimentale di riequilibrio questo comune risulta essere quello più spendaccione di tutti ma non per colpa sua perché lui ha in carico la gestione associata per conto di tutti gli altri questi sono effetti negativi che il legislatore non ha considerato nel dare la possibilità ai comuni di associarsi in convenzione su funzioni importanti come quelle che vi ho detto trasporto viabilità asili nido manutenzione scolastica eccetera le unioni di comuni sono l'altro strumento le unioni di comuni sono previste anche se dal testo unico degli enti locali quando vengono costituite in prevalenza da comuni montani possono assumere anche le funzioni specifiche della montagna previste dalla costituzione e dalle leggi statali la popolazione complessiva anche in questo caso deve essere almeno pari alle soglie quindi almeno 5.000 o 3.000 e la durata non può essere inferiore a 10 anni ecco vedete che siamo in presenza di un vincolo già più lungo dal punto di vista temporale un vincolo più lungo implica che si mettono in moto le componenti dell'organizzazione che sono rappresentate dai dipendenti dal patrimonio dai beni eccetera cioè è un'unione quindi è una relazione sicuramente più stabile e più di prospettiva che non quella della semplice convenzione come funziona un'unione di comuni un'unione di comuni riceve dai comuni le funzioni come prima cosa delibera del consiglio comunale che cede all'unione le funzioni poi l'unione che è un ente locale terzo e a sé stante si dà una propria organizzazione interna stabilisce una propria dotazione organica che però deve essere data dalla somma delle dotazioni organiche dei comuni aderenti l'unione non può tanto assumere personale dall'esterno se non in casi assolutamente eccezionali perché deve dimostrare l'invarianza della spesa di personale cioè la legge dice che a livello di unione le funzioni precedentemente svolte non devono costare di più di quanto costavano prima e nel tempo l'unione è tenuta anche a dimostrare di poter spendere meno come? beh mettendo in sinergia le proprie organizzazioni quindi se oggi abbiamo sei comuni in cui c'è ci sono tutti che si occupano delle stesse cose domani all'interno dell'unione con una buona organizzazione si può specializzare le persone e quindi in qualche modo non più sovrapporre i compiti risparmiando tempo dei lavoratori e quindi i danaro si possono mettere insieme gli appalti l'unione può funzionare come centrale unica di committenza cioè stazione appaltante unica per conto di tutti i comuni aderenti allora capite bene che se oggi sei appalti per lo sgombero della neve separati costano cento se questi sei appalti non vengono gestiti dai sei comuni aderenti all'unione ma vengono gestiti dall'unione che fa un appalto unico costerà sicuramente di meno questo per le leggi economiche sulle economie di scala e sulle dimensioni crescenti costerà sicuramente di meno quel risparmio potrà servire a dimostrare che l'unione è un'organizzazione tendenzialmente più efficiente che noi singoli comuni poi l'unione non ha la potestà di imporre tributi salvo che non gli venga data dai comuni ma ha il diritto di ricevere il gettito delle tasse delle tariffe delle imposte relativa ai servizi che amministra poi l'unione net di nuovo mi piace citarlo ha fatto una cosa interessante ognuno può avere la sua opinione ma ha deciso che istituiva l'imposta di soggiorno che come sapete è una facoltà di tutti i comuni ma la istituiva a livello di unione e quindi l'unione ha acquisito la potestà impositiva in questo modo si è garantita un'entrata propria che mi pare non sia trascurabile in termini economici e che permette all'unione di pianificare i propri servizi anche indipendentemente dai trasferimenti che i comuni le passano è un modo per emanciparsi e rendersi più forti la stessa cosa badate si potrebbe fare se ogni comune che aderisce a una unione decidesse di devolvere a monte una quota ad esempio del proprio oggetto gettito IMU in favore dell'unione questo senza aumentare la pressione fiscale perché la scelta di istituire l'imposta di soggiorno comunque un effetto di incremento della pressione fiscale lo comporta la scelta di devolvere invece una quota del gettito delle imposte che ci sono che ci sono già in favore delle unioni permette all'unione di acquisire una potestà impositiva su quella componente di entrata gli organi di governo delle unioni sono come quelli di un comune c'è un presidente dell'unione c'è una giunta e c'è un consiglio i modi per comporre questi tre organi sono i più vari in giro se ne vedono veramente di belle di fantasiose anche ci sono unioni che hanno il presidente a rotazione come se fosse l'unione europea ogni sei mesi cambia il presidente ci sono diversi modi per dare rappresentatività alle minoranze all'interno del consiglio dell'unione si formano all'interno del consiglio dell'unione delle maggioranze e delle minoranze diverse da quelle dei comuni aderenti e quindi è interessante anche da come dire da vedere però la struttura della governance è quella assolutamente classica assolutamente classica i vincoli che la legge pone sono che ogni comune può far parte di una sola unione di comuni mentre può fare come abbiamo visto prima convenzioni con altri comuni fuori ovviamente la stessa funzione non può essere data all'unione e gestita in convenzione con altri comuni per ogni funzione una forma gestionale e poi c'è il ministero dell'interno che è preposto la verifica non solo sugli statuti ma anche poi sul funzionamento operativo delle unioni cosa che almeno la prefettura di Torino non ha ancora attivato il monitoraggio sulle unioni mentre altre prefetture mi risulta quella di Cuneo abbiano già attivato una forma di controllo sulle unioni qui c'è comunque anche la regione Piemonte che ha la sua struttura direzione antilocali che monitora le forme associative tutte quante vi ho detto parlando a proposito di San Benigno uno dei nodi uno dei primi nodi che ci si trova ad affrontare è come organizzo l'unione cioè metto tutti in un palazzo o creo un modello distributivo per cui ogni comune diventa sede di un servizio dell'unione per cui a Settimo c'è la polizia locale a San Benigno a San Benigno ci mettiamo il catasto ci mettiamo il servizio catasto dell'unione a Volpiano ci mettiamo la ragioneria dell'unione creiamo un modello distribuito in modo da compensare anche determinati effetti di ruolo e non solo di ruolo anche finanziari che oggi possono essere in qualche modo sbilanciati sono sempre idee io personalmente sono per i modelli distributivi non per i modelli di unioni accentrate vedo che le unioni italiane più avanti di tutte che sono ovviamente sempre quelle emiliane e quelle toscane hanno tutte dei modelli distributivi quindi ogni comune è protagonista nel suo piccolo dell'intera esperienza dell'unione dei comuni in questa slide vedete l'elenco degli atti fondamentali sono tantissimi quindi se uno dovesse dire domani mi metto a fare un'unione probabilmente non c'è più tempo perché gli atti fondamentali sono molti ma non li sto a delencare li vedrete poi nei materiali e poi ci sono delle metodologie mi permetto di andare in scia alla vostra collega che richiamava l'esperienza multinazionale nelle multinazionali probabilmente vengono utilizzati strumenti di managerialità come questi che sono gli standard internazionali di analisi organizzativa di management by objective di rendicontazione sociale di questi strumenti esistono solo che non vengono molto conosciuti e utilizzati a mio parere devo dire un po' di esperienza che mi deriva essere stato dirigente dell'organizzazione della provincia di Torino che è un'organizzazione da 1600 addetti su 15-6 di fisiche differenti credo che ci vorrà del tempo perché arrivi un po' di managerialità anche nei comuni piccoli ma arriverà arriverà naturalmente se ci sarà anche la forza degli amministratori di incentivare questo tipo di investimenti restano le unioni montane di comuni da vedere io però sulle unioni montane di comuni non mi soffermerei troppo perché il processo di transizione è iniziato subito ma si è subito in qualche modo fermato perché le unioni di comuni le comunità montane hanno impiegato e stanno impiegando veramente molto tempo a decidere e a mettersi d'accordo sul primo degli atti fondamentali che è lo statuto ci stanno mettendo così tanto tempo che ovviamente la regione piemonte ha dovuto far partire le procedure volte al loro commissariamento e sono stato fatto quest'estate il bando per la ricerca dei commissari liquidatori delle comunità montane mi risulta che non siano stati nominati ma mi risulta anche che questa sia una misura come dire nello stesso favore delle comunità montane adottata alla regione piemonte perché è chiaro e evidente che il giorno in cui arriva il commissario liquidatore quindi viene nominato e viene assegnato ad una o all'altra comunità montana gli organi di governo delle comunità montane non hanno più titolo a dire nulla allora io per carità nulla da da eccepire ma se ci vuole un anno per mettersi d'accordo sulle virgole dello statuto dell'unione montana bisogna dire che la partita è persa cioè meglio che arrivi il commissario dopodiché quando arriva il commissario purtroppo chi ne fa le spese tra virgolette innanzitutto sono i dipendenti ai quali la legge regionale garantisce mobilità e ricollocazione presso se stessa la regione piemonte gli enti strumentali gli altri enti locali del comparto ma attenzione la legge non può garantire il mantenimento del posto di lavoro in eterno e neanche il mantenimento delle posizioni economiche attuali quindi chiudo davvero mi spiace con una nota polemica ma chi oggi fa parte di consigli di comunità montane e da un anno sta litigando sulle virgole sta mettendo seriamente a rischio non solo le proprie organizzazioni e le comunità montane hanno tradizioni da difendere hanno patrimoni importanti badate che ci sono acquedotti centrali elettriche quelli che in termini aziendali vengono chiamati assessment molto significativi e molto critici l'acqua che arriva a Torino deriva anche dalla comunità montana Valle di Lanzo che è proprietaria di un acquedotto allora chi oggi sta ritardando il processo di trasformazione dell'unione montana di comuni non solo pregiudica quello che le comunità montane negli anni di buono hanno creato e c'è tanto ma pregiudica anche il futuro delle persone che ci lavorano dentro perciò spero che con tutta la pazienza che la regione Piemonte ha avuto fino ad oggi ci sia una presa di coscienza forte da parte degli amministratori che sblocchino questa situazione e vadano avanti perché perché chiunque abbia coscienza di questo sa che non si può fare che così poi una volta fatta la transizione all'unione montana di comuni ci si può anche decidere di separare ma se lo si fa dopo gli effetti sono molto meno dolorosi di quello che invece sta succedendo adesso chiudo perché mi piacerebbe che ci fosse di nuovo un'altra serie di sollecitazioni da parte vostra nell'ultima parte delle slide per chi avrà voglia di leggerle troverete una riflessione critica sulla scelta che il legislatore nazionale non regionale ha fatto di considerare alternativi lo strumento dell'unione e lo strumento della convenzione non mi soffermo la vedrete ma in realtà non sono strumenti alternativi nascono nel testo unico degli enti locali come strumenti di cooperazione complementari e non alternativi in questo e così recupero la sollecitazione sulla città metropolitana il legislatore si è dimenticato che anche la città metropolitana è uno strumento di cooperazione previsto perfino dalla costituzione dal 2001 ad oggi noi abbiamo sentito parlare credo da circa 41 anni della città metropolitana perché la prima delimitazione dell'area metropolitana da parte della regione Piemonte risale al 1972 in quella delimitazione nell'area metropolitana erano compresi 38 comuni poi c'è stata un'altra delimitazione nel 95 che faceva 18 comuni poi il piano territoriale di coordinamento della provincia nel 98 ha detto 15 comuni poi è nato un tavolo metropolitano nel 2003 che diceva di nuovo 28 comuni poi è nato un altro tavolo metropolitano nel 2008 che diceva 17 comuni e sono passati quasi 40 anni e la città metropolitana non esiste ancora perché non esiste una ragione è geografica provincia di Torino ha un territorio molto esteso molto frammentato la provincia di Torino è grande una volta e mezza la Liguria quindi una provincia è grande una volta e mezza una regione ok ha un sacco di popolazione distribuita in maniera policentrica come vi dicevo prima pertanto se si fa comunque la si ritagli l'area attorno a Torino resta sempre una specie di ciambella con un buco in mezzo il buco è la città metropolitana ma della ciambella che ne facciamo allora negli anni nei vari modelli di città metropolitana il tema è stato questo cosa ne facciamo della ciambella che poi ha dentro più della metà della popolazione della provincia di Torino perché la provincia di Torino fa 2 milioni e 4 la città di Torino fa 900 mila abitanti con i 15 barra 38 comuni della città metropolitana si arriva a un milione e due mal contati e dell'altro milione e due che ne facciamo? lo facciamo annettere se sta di qua viene annesso alla provincia di Vercelli se sta un po' più giù alla provincia di Asti quello sotto lo annettiamo a Cuneo quello sopra lo annettiamo alla Valle d'Aosta e la Val Susa che sta al confine con la Francia la così sul movimento no tab ci mettiamo anche l'accento capite? non è quella è una ragione seria è una ragione geografica per cui è difficile fare la città metropolitana l'altra ragione è politica e cioè non si è mai voluto vedere mio parere la mia personale opinione che la città metropolitana è esattamente come un'unione di comuni è uno strumento di cooperazione è uno strumento per cooperare lo si è sempre visto invece come il super super comune ma finché lo si vede così nessuno dei comuni che stanno anche solo nella prima cintura accetterà di rinunciare alla propria sovranità per cederla a Torino e piuttosto i comuni che stanno nella prima cintura diranno ah sì tu vuoi che io ti ceda la mia sovranità no io faccio l'unione con quelli che mi stanno a fianco e così quando mi chiami la prossima volta io non ho più quanti abitanti a settimo 48.000 circa ne ho 120.000 e allora vediamo se mi puoi annettere perché la paura poi è sempre quella il piccolo che viene mangiato dal più grande allora fino a quando esiste però questa visione della città metropolitana come super super comune non se ne esce non se ne esce se invece si cominciasse a vedere la città metropolitana come uno strumento di cooperazione al pari di quelle che sono le unioni di comuni io penso che sarebbe più facile farla perché i sindaci si troverebbero attorno a un tavolo come fanno i sindaci delle unioni piccole e dire abbiamo queste 5 6 10 2 3 funzioni e le gestiamo insieme ma nessuno si priva della propria identità nessuno si priva della propria storia nessuno si priva della propria autonomia salvo quello che mette volontariamente in gestione guardi che guardate che le comunità di comuni cioè le aree metropolitane francesi che si chiamano comunità di comuni sono questa cosa qui la comunità di comuni marsigliesi a marsiglia e altri 17 comuni attorno insieme fa un bel colosso si occupa di tre cose pianificazione urbanistica trasporto pubblico locale e rifiuti vive meravigliosamente esiste ma perché in altre realtà l'approccio culturale è stato differente non so se ho risposto alla la mia risposta è che fino a quando le leggi verranno scritte in funzione di emergenze finanziarie economiche economiche non saranno mai interpretabili in maniera elastica e pro bono continueranno a essere sempre e solo interpretate del tipo dobbiamo essere più grandi perché essendo più grandi possiamo togliere risorse ai più piccoli possiamo sopravvivere e lì si innesca la legge della giungla il problema è a monte e come vengono fatte le leggi questa stagione non è positiva credo che la legge regionale del Piemonte abbia interpretato correttamente nei limiti degli spazi di interpretazione possibile che la legge dello Stato dava e come abbiamo visto stasera ha aggiunto anche dei valori aggiunti che possono permettere di guardare in maniera più forse più ottimistica che in altre regioni a questa riforma ma sicuramente finché la riserva mentale è quella che ispira i vari decreti taglia qualcosa, svuota qualcos'altro spending review eccetera non cambierà molto l'interpretazione delle norme in conclusione e vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nell'ascoltare e anche nell'interloquire credo che questa riforma non si concluderà sicuramente il 31 dicembre quando scadrà l'ultimo termine ma se verrà confermata come è naturale pensare sarà una riforma che richiederà 5 o 6 anni almeno di attuazione dal giorno dopo la fine dell'anno e se ci sarà di nuovo la possibilità di confrontarsi su come stanno andando le cose farà molto piacere anche a me io vi invito invito qualora ce ne fosse bisogno a fare una pianificazione molto attenta e oculata e a salvaguardare quello che c'è perché uno dei principi fondamentali delle organizzazioni è che certamente muovere, scomporre o rompere quello che esiste senza sapere cosa si vuole creare al suo posto è il modo peggiore per fare le cose ma sono certo che i vostri comuni stanno facendo bene e faranno meglio grazie davvero per la vostra attenzione Dica volevo proprio dirvi questo le slide che il dottore adesso ha proiettato verranno poi messe sul sito dove c'è già parte del dove verrà messo tutto il materiale del percorso formativo quindi le potrete scaricare di lì e nelle slide c'è anche il mio indirizzo di posta elettronica cosa che faccio sempre con molto piacere rispondo alle domande ai quesiti che mi vengono posti via posta elettronica quindi anche a voi rivolgo l'invito a restare in contatto se vi farà piacere grazie grazie al dottor Orlando scusi vorrei fare ancora una domanda chiedo scusa sono amministratrice in un piccolo comune montano al comune di Rur in Val Chisone e volevo unirmi cioè ritornare un attimo al discorso appunto dell'unione dei comuni noi abbiamo ancora in piedi una comunità montana e lo statuto dell'unione dei comuni è già stato approvato e che cosa stiamo aspettando? credo che in Val Chisone stiate aspettando il commissario perché purtroppo da quello che mi risulta il processo di transizione non ha visto marciare tutti uniti e compatti quindi qualcuno si è chiamato fuori se non ricordo male pertanto quella è una delle ipotesi per le quali la legge prevede obbligatoriamente il commissario anche in questo però si possono fare le cose in maniera molto differente la comunità montana Valli di Lanzo per esempio ha deciso di accompagnare comunque il processo di commissariamento che toccherà anche loro con una analisi organizzativa che stanno facendo che stanno svolgendo cioè hanno detto va bene arriverà il commissario ma al commissario non gli lasciamo mettere le mani sulla nostra organizzazione mettere le mani tra virgolette facciamo noi un'analisi organizzativa facciamo un piano di riorganizzazione facciamo un lavoro che comunque è complicato perché bisogna parlare con i dipendenti cominciare a dire adesso non ci sono più le funzioni che la comunità montana svolgeva prima ci sono anche quelle fondamentali dei comuni perfetto di quello che abbiamo visto stasera quindi un lavoro di progettazione organizzativa molto serio per cui quando arriverà il commissario gli si dirà questo è il bilancio di chiusura questo è il piano di riorganizzazione prego e il commissario dovrà semplicemente firmare liquidare le componenti patrimoniali però il più sarà stato messo in salvo consiglio che vi do e fate la stessa cosa cominciate a portarvi avanti perché onestamente non so quando la regione darà il via ai commissari però la legge prevedeva un termine che è già scaduto quindi ok grazie grazie a lei